Buongiorno, buongiorno, ciao a tutti, bentrovati, bentornati, benvenuti sul mio canale che è da qualche mese un po' abbandonato. Ho fatto un ritorno dopo le vacanze, poi c'è stata un'altra pausa e adesso ritorniamo, vediamo con che modalità. Vi ringrazio come sempre per tutti i messaggi privati che mi avete mandato. Come vedete i capelli sono cresciuti, ho cambiato gli occhiali, c'è anche un altro paio perché me ne sono fatte due nuovi. Oggi volevo fare un video prima di riflessione che vi spiego anche il perché sono stata lontana dai social in generale. E poi di tre libri che ho letto ultimamente, ancora libri perché ultimamente sto leggendo molto, che mi hanno aiutato un po' anche, che mi hanno portato, diciamo così, a fare queste riflessioni che mi hanno accompagnato in questi mesi. Allora, innanzitutto sono stata lontana perché ho avuto molte cose da fare dal punto di vista proprio pratico nella mia parrocchia. Abbiamo fatto la festa dell'oratorio e tutto questo comporta un enorme impegno da parte mia. Io sono la responsabile della cucina e che è, diciamo, la parte più grossa della festa dell'oratorio, come di ogni festa di paese o di qualsiasi festa che coinvolga una comunità, ecco, diciamo così. E quindi prima l'approvvigionamento, il cercare le persone del gruppo dei volontari. Quest'anno è stata veramente molto difficile perché poche persone si sono resi disponibili per tantissimi problemi. Noi siamo arrivati molto tardi nell'organizzarla, anche qui varie iniziative parrocchiali ci hanno portato ad organizzarla proprio nell'ultimo mese e quindi è stato veramente molto difficoltoso. Quando poi io mi rendo conto che faccio così tanto, proprio anche dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista mentale, perché mi tiene poi lontana da tutte le altre cose, succede che poi mi ammalo. Finita la festa dell'oratorio, mi sono presa una bronchite sotto antibiotico e sono uscita adesso. E questo mi ha fatto capire che devo prendere tempo, devo prendere le cose con calma. Tutto devo prendere con calma. Per chi è come me, ho fatto proprio questa riflessione in questo ultimo periodo, per chi come me è una mente creativa, una mente eclettica, e questo non vuol dire che sia una cosa positiva. Io mi rendo conto che alcune volte con la voglia di fare troppo, con le tante cose che ho in mente, lascio perdere tante altre cose che sono importanti. Prima di tutte, per esempio, la gestione della casa. Per l'organizzazione della festa dell'oratorio, devo dire che sono stata quasi tre settimane, praticamente quasi fuori casa sempre, quindi avevo il lavoro, però facevo le cose minime, mi sono rimaste indietro tantissime cose. E quindi ho così, proprio ho pensato che è avvenuto il momento di prendersi un momento di calma, di ritrovare il tempo perduto o il tempo perso, non perché io perda tempo, non si perde mai del tempo in tutte le cose che si fanno, sia che siano le cose creative, sia guardare i social, trovare nuove idee, ma probabilmente il mio farlo in maniera così eccessiva mi ha allontanato da alcune cose anche pratiche, anche dalla vita normale e reale. E questo mi porta comunque a una grande confusione, a una confusione delle cose che faccio in casa, a una confusione delle cose che faccio fuori, quindi mi sono proprio detta che, d'ora in avanti, ma è da un po' che lo sto facendo, già da quest'estate, ve ne avevo già anticipato in qualche video scorso, il bello di prendersi del tempo, il bello di avere del tempo per guardare, osservare, per riflettere, mi ha portato anche a una grossa riflessione sul senso della vita, sulla vita, soprattutto nella preparazione della festa dell'oratorio, ho sentito la mancanza, in maniera molto forte, della mia amica Giovanna, che è morta l'anno scorso, se vi ricordate ve ne avevo parlato, e lei mi dava una grossa mano in tutta questa organizzazione, era sempre la persona che mi diceva, sì non preoccuparti, io ci sono per i turni, non preoccuparti, chiamami quando hai bisogno, mi sono ritrovata a fare il suo numero di telefono, perché ero in un momento davvero di bisogno, e tutto questo mi ha fatto fermare, mi ha fatto pensare a quanto tempo magari io dedichi alle cose più superflue, tra virgolette, e quanto poco magari poi mi renda conto di quello che lascio indietro. Arrivata comunque all'età di 54 anni, è sicuramente meno il tempo che vivrò, di quello che ho già vissuto, e questo tempo che mi rimane, da quando sarà il mio momento, non voglio essere triste, però è una cosa che mi ha fatto riflettere, me lo voglio proprio godere bene, godere bene con mio marito, godere bene con i miei figli, godere bene con i miei amici, per quello che si riesce a fare, vivere bene nel posto di lavoro, anche se ultimamente mi risulta veramente molto difficile, proprio per gestione di rapporti personali, non dal punto di vista lavorativo, diventa sempre più difficile far capire che la tua professionalità è professionalità ed è esperienza, proprio perché sono tanti anni che lavori nello stesso posto, e tanti anni che fai quel lavoro, e nel mio caso non viene riconosciuta, non posso cambiare posto di lavoro perché ci sono comunque tanti vantaggi che ho e questo non lo posso nascondere, però devo arrivare ad un certo punto che i problemi io ce li ho dalle 8 a mezzogiorno e cerco di fare il mio lavoro meglio possibile, quando torno a casa tutto il resto rimane fuori, non mi posso portare a casa i problemi degli altri. e varie vicissitudini insomma mi hanno portato a fare davvero tante tante riflessioni. In primis la settimana che ho vissuto da Pietro e da Federica, quando siamo andati ad aiutarli per fare il trasloco, mi ha fatto rendere conto di quanto un tipo di vita come la loro, che è indubbiamente molto faticosa, perché gestire gli animali, gestire un tipo di vita che vuole essere il più sostenibile possibile, anche se non lo può essere al 100%, l'essere lontano dai social, l'essere lontano anche da una comunità che crea un'appartenenza, perché loro vivono in questo paesino davvero molto piccolo, dove ci saranno una trentina di persone, ma forse neanche, mi ha fatto comunque apprezzare anche i vantaggi della solitudine, il vantaggio del silenzio, il vantaggio dell'avere modo di poter pensare, il vantaggio di confrontarsi con se stessi, con i propri limiti, ma anche il riscoprire le proprie abilità che magari vengono dimenticate. E che bello poter dire di aver imparato qualcosa dai propri figli. Mi piace questa cosa, perché vuol dire che c'è uno scambio di vita che ti permette anche di riconoscere quali sono i tuoi limiti come genitore e di apprezzare invece quali sono le qualità dei tuoi figli quando ce n'è bisogno, insomma. E quindi ho imparato a dire no, ma a dire no a me stessa. Fino a qualche tempo fa avevo fatto un cammino per imparare a dire no agli altri. E invece ho imparato a dire no a me stessa e a capire qual è il momento in cui raggiungo un limite che non è superabile. perché questo danneggerebbe me, danneggia la mia famiglia, danneggia quello che è la mia vita normale. Il voler far sempre tutto, ovviamente sto parlando di me stessa, io non ho mai giudicato nessuno, non mi piace giudicare, non mi è stato neanche mai insegnato, grazie a Dio, perché prima di giudicare bisogna capire cosa c'è dall'altra parte e non si può mai capire cosa c'è dall'altra parte perché quello che vediamo non è quello che effettivamente una persona vive. Si può far vedere quello che vuole, però quello che c'è dentro la sua anima, dentro il suo cuore, i suoi problemi, le sue preoccupazioni, noi non le possiamo mai sapere, a meno che uno abbia così tanta confidenza da confidarcele. E quindi tutto questo mi ha fatto capire che me la devo prendere con calma. per poter godere di tutto quello che ho intorno del mio tempo, della mia famiglia e di tutto quello che vi ho detto prima. Questo non vuol dire che io abbandono il canale assolutamente no, il canale mi piace, ho visto che nonostante la mia assenza comunque è cresciuto, quindi di questo vi ringrazio, ma per la voglia di condividere a volte lascio indietro tante altre cose. Adesso è arrivato il momento di fermarsi un attimino, di godere di tutto, di godere del canale, nel giusto tempo e nella giusta prospettiva, di condividere con voi quelle che sono le mie scoperte, le mie letture, la mia creatività. In questo momento sto leggendo molto, come vi dicevo, sto lavorando molto a maglia e a uncinetto, sto seguendo alcuni canali di cui poi vi parlerò e vi lascerò ovviamente le indicazioni, come sempre nell'info box, che mi danno sollievo, mi aiutano a riflettere, a capire che la vita semplice in questo momento è quella che io voglio. E qualcuno potrebbe dire, vabbè Eli, sei arrivata a 54 anni a capire queste cose. sì, perché no, uno cresce fino al giorno in cui non lascia questa terra, impara fino al giorno in cui non lascia questa terra. E tutto questo è per me un arricchimento. Ho scoperto proprio in questi ultimi mesi due ragazzi che si chiamano Vanessa Marito e Mogli, sono Vanessa e Alessio, che hanno tre canali. Uno che gestiscono insieme, che è imparare vivendo, e gli altri due che gestisce Vanessa, che è una ragazza molto dolce, molto genuina, molto simpatica e molto semplice. Attenzione, Sulla parola semplice, alcune volte qualcuno, diciamo, la storpia con una ragazza molto semplice, potrebbe sembrare una ragazza poco acculturata. No, non è così. È una ragazza molto semplice per quello che fa. Ama la vita semplice, e a me questa cosa piace tantissimo. Ama il creare con le sue mani, ama il giusto, non il poco. perché lei ha i suoi hobby, ha le sue passioni, però tutto questo lo condivide con una semplicità, con una bellezza d'animo, con una voglia di trasmettere sempre gioia, di trasmettere sempre il bello, in qualsiasi situazione, che io mi ci sono ritrovata, nonostante ci siano molti anni di differenza. lei mi pare che abbia 35 anni, 38, una cosa del genere, sembra molto molto più giovane. E secondo me questa bellezza esce in ogni suo video. E vi devo dire che mi stanno facendo molto bene, mi stanno facendo bene al cuore. E allora mi sono detta, ma perché no? mi sono un po' allontanata dai social, perché ho trovato un clima ultimamente molto molto pesante, si commenta sempre su tutto, si parla a volte anche per niente, si fanno dei commenti che sono inutili. e si disquisisce sul fatto che uno compri in un modo e che compri in un altro, che compri da questa parte, su un negozio, senza però magari farsi un piccolo esame di coscienza su quello che noi facciamo, su dove compriamo, sappiamo da dove arrivano le cose, non sempre, su come mangiamo. E anche lì, se metti una ricetta in un modo, vieni bannata, se ne metti un altro, cioè è diventato veramente pesante. condividere le cose sui social e un po' mi sono anche rotta le balotas, devo essere sincera, c'è da 54 anni, davvero, quello che dico è quello che penso e come io rispetto e ho sempre rispettato tutti, pretendo lo stesso rispetto nei miei confronti. A me non è mai successo, non è mai successo, non ho mai avuto commenti negativi, nessuno mi ha mai offeso, fortunatamente di questo vi ringrazio sempre tanto, ma mi dà anche fastidio leggerlo sui canali, delle amiche, o guardando anche soltanto su Facebook, Facebook è ormai un social per boomer, forse non è neanche più tanto usato per quello, come si dice, usando la parola che i ragazzi giovani definiscono noi di una certa età. Io però mi ci ritrovo, è forse uno dei canali, è uno dei social che sfrutto di più, anche se adesso sto postando poco, e niente, si trovano sempre commenti negativi o commenti di persone che magari vogliono dare dei consigli quando dall'altra parte non si conosce neanche la persona, insomma, impariamo a stare al nostro posto, cioè, ce l'hanno insegnato, impariamo a stare dove ci hanno insegnato a stare. i social generalmente, poi c'è anche qualcuno che racconta la sua vita privata, sono fatti per condividere cose belle, cose libri, pensieri, non c'è sempre bisogno di dire la tua cercando di far scendere Dio dal cielo o gli inferi dall'inferno, insomma, vabbè, scusate, mi sto facendo un po' di riflessione così, però, ecco, mi sono anche un po' stufata dei commenti che a volte non hanno senso di esistere, ecco, e quindi sto prendendo un po' le distanze da tutto questo, nulla toglie che tutti i canali a quale sono iscritta io li seguo, magari, con un po' più di lentezza, perché prediligo la sera leggere, prediligo magari la sera fare un momento di meditazione, di riflessione, prediligo guardare una serie tv, oppure soltanto lavorare all'uncinetto o a maglia, ecco, mi sto proprio gustando il mio tempo libero, detto questo, comunque, proprio in questo tempo libero, mi sono letta questi libri che adesso vi consiglio, due, sono libri che mi sono stati consigliati da Pinterest, io seguo da sempre, sono iscritta da non so quanti anni a Pinterest, e ogni tanto escono i consigli, no, pubblicizzati dei libri, e il primo che ho trovato è stato questo e l'ho comprato con tutt'altra idea del libro, che fosse un libro di questo genere, è un libro di Mavi pendibene, frittelle di mele a mezzanotte e io chissà che cosa mi ero aspettata, nel senso che qui lo presenta in questa maniera, è il 1976, quando Mavi, suo marito e un figlio ancora piccolo decidono di lasciare Genova per iniziare una nuova vita di campagna, nessuno di loro è mai vissuto fuori dalla città e tantomeno ha qualche nozione di agricoltura o di allevamento, eppure i progetti sono tanti e l'idea ambiziosa è quella dell'autosufficienza, il luogo dove si trasferiscono è un angolo incantato della natura pressoché incontaminata, dall'antica cascina in cui si sistemano i soli rumori che si sentono sono quelli del ruscello che scorre in fondo al prato, del vento che agita le chiome degli alberi del bosco e di qualche raro agitante diretto ai laghi non lontani, tutto è magico e anche molto complicato perché contadini non ci si improvvisa. Raccontata come con una miscela molto efficace e un po' inglese di poesia e sense of humor senso dell'umorismo questa storia ci rivela una nuova voce della nostra narrativa che è Mari Pendibene Mari Pendibene è una donna nata a Genova nel 49 quindi ha più o meno l'età della mia mamma la mia mamma è nata nel 47 si è laureata in lingue e letterature straniere divenendo una lettrice appassionata della lettura inglese tra 800 e 900 nel 76 appunto ha lasciato Genova insieme al marito e al figlio e si è trasferita in campagna dal 94 dopo la separazione dal marito ha insegnato inglese e francese nelle scuole della comunità montana della zona in cui risiede ora si gode una vita bellissima e scrive e questo è il primo libro autobiografico raccontato sotto forma di romanzo ma neanche e io mi aspettavo da questo libro un racconto molto bucolico della sua nuova vita in un paesino sperduto in un borgo sperduto nelle montagne Liguri e non c'è stato tutto questo o meglio c'è ma scritto in un modo molto molto personale un modo molto riflessivo che racconta le difficoltà i pensieri di una giovane donna di una giovane moglie di una giovane mamma in un ambiente totalmente sconosciuto a lei perché appunto prima abitava a Genova in una grande città e il suo pensiero di come la vita pian piano cambia ma da un punto di vista molto molto personale sono quasi delle piccole meditazioni che ti permettono di andare oltre di scoprire tramite le sue parole quello che potrebbe essere il suo pensiero lei non ci racconta tanto in questi libri ma ci fa intuire quello che potrebbe essere e vedete alcune volte cioè è proprio magari un pensiero il capitolino no? ve ne leggo solo una parte il cielo sulla valle è grigio scuro quasi viola fa paura i passeri si attaccano al muro scabro della casa vibrano con piccole scosse angelo dice che nevicherà è bello rientrare sedere vicino alla stufa sfiorare con i piedi gelati la ghisa rovente fino a quando l'odore strinato delle calze ci avverte che abbiamo esagerato preparo la cena la pentola bolle lenta sul fuoco il profumo di minestra buona si spande per la cucina io leggevo un capitolino ogni sera e devo dire che probabilmente ero anche sono in un momento particolare della mia vita che alcune cose mi fanno davvero molto bene e questi libri sono stati preziosi per questo mio momento così di cammino verso un'altra eli oppure riscoprire la eli che c'è e che avevo lasciato un po' da parte frittelle di mele a mezzanotte potrebbe essere inteso come un libro di racconto di una vita così molto bucolica dove ci sono le esperienze con gli altri abitanti del borgo no è proprio un'esperienza molto personale che Mavi ci racconta in queste pagine ma è un libro di riflessione profonda che ti tocca l'anima e a me è piaciuto tantissimo anche se l'avevo scelto perché pensavo tutt'altra cosa volevo appunto capire se c'era qualcuno che aveva vissuto come sta cercando di vivere mio figlio e la sua fidanzata di come avevano affrontato le difficoltà ecco c'è davvero molto poco di questo però c'è tanto di quanto c'è nel suo cuore di quanto lei abbia pensato abbia meditato in questi anni di vita in questo in questo piccolo borgo mentre il secondo libro che è sempre della stessa scrittrice a parte che le illustrazioni sono davvero bellissime e trovate anche un piccolissimo una piccolissima intervista non ricordo se su youtube o su instagram poi ve lo lascio ed è questa proprio la sua la sua casa è il suo interno di casa e questa è la casa sua come adesso fatta dipinto ma è proprio la sua cascina qui invece è proprio una sorta di piccole meditazioni poetiche della vita dopo che si è separata dopo che il figlio è diventato grande quindi della sua vita in solitudine in questo luogo e l'ho trovato molto profondo molto commovente molto formativo mi è piaciuto davvero tantissimo e nulla secondo me ci fa fare un po' anche i conti con l'età che avanza con il fatto che non siamo eterni senza parlare di fede la fede qui non c'entra proprio niente ma proprio fare i conti con se stessi con la propria vita con quello che abbiamo fatto con quello che stiamo facendo e con quello che lasceremo e con quello che magari troveremo è davvero secondo me due libri che vale la pena leggere un po' di sale nell'acqua tiepida è questo molto molto bello davvero tutte e due ve li consiglio se anche voi siete in questa fase di cambiamento come sono io insomma terzo libro un romanzo sempre autobiografico di Alfredo Paluselli Lei e la montagna in questo romanzo autobiografico quindi è proprio la storia raccontata in queste pagine dell'autore con la sua compagna come incontra la sua compagna e le vicissitudini di una vita in montagna di una vita anche qui lontano dalle grandi città lontano dalle grandi comodità una vita che ci fa apprezzare le piccole cose che ci fa apprezzare il silenzio che ci fa apprezzare le montagne per chi ama la montagna che ci fa apprezzare anche il contatto con noi stessi il ritrovarsi Alfredo Paluselli nasce in Trentino nel 1976 appassionato di viaggi e di montagna con edizioni Dolomiti ha pubblicato Vento da nord riflessioni nelle Dolomiti e il diavolo generoso che hanno ricevuto tutti il patrocinio della fondazione Dolomiti UNESCO nel suo blog Cuore e cielo condivide esperienze nel mondo Lei e la montagna è il suo primo romanzo ed è la storia di Alfredo e Melania che si incontrano perché lui ha scritto un libro di ricordi sul nonno che abitava nelle Dolomiti come lui Melania lo contatta dicendogli che appunto il libro gli è piaciuto molto l'ha colpito perché lei è sempre stata innamorata delle Dolomiti dove ha trascorso la sua infanzia i due pian piano si scrivono per molti mesi poi si incontrano si incontrano si innamorano ma nel bel mezzo arriva la pandemia arriva la pandemia quindi sono lontani e nel frattempo Melania scopre di essere ammalata e poi e poi la storia la storia continua un bellissimo romanzo anche questo che vi consiglio a me ha colpito tantissimo la copertina di queste montagne di questa ragazza con i capelli rossi mossi dal vento e anche questo è un libro nonostante sia un romanzo ma è comunque un romanzo autobiografico che mi ha aiutato a riflettere bene io vi saluto sono sicura che ci ritroveremo presto perché ho delle cose da farvi vedere che a cui sto lavorando sia all'uncinetto che a maglia o altri libri che sto leggendo e che ho letto e che ho intenzione di condividere sicuramente parleremo ancora di profumi di skin care di tante altre cose ma in questo momento li ho lasciati da parte perché non sono la cosa prioritaria per me come vedete ho ancora un po' di tosse nulla che dirvi spero di non avervi intristito ma penso di no nel senso che si capisce che sono comunque serena felice e sto facendo un piccolo cambiamento che perché no ogni tanto ogni tanto ci vuole si corre tanto si fa tanto poi ci si ferma si riflette su quello che stiamo facendo magari alcune cose vanno aggiustate come nel mio caso altre volte si capisce che quello che stiamo facendo va bene come quello che ho intrapreso io questo cammino così di introspezione non so come come dirlo poi va bene l'autunno mi aiuta molto in queste cose le giornate uggiose il freddo la stufa accesa il fatto di stare in casa di potermi dedicare un po' di più alla cucina per noi e non per gli altri ecco tutte queste cose a me piacciono molto l'autunno è la mia stagione preferita l'autunno e l'inverno sono le mie stagioni preferite perché quando posso io rimango a casa mia a me piace tantissimo stare nella mia casa con le mie cose adesso vi saluto vado a stirare le tende perché dopo tanto tempo mio marito è riuscito a lavarmi i vetri io non riesco perché ho la cuffia dei rotatori rotta purtroppo questo non mi permette di fare dei grossi movimenti perché poi non riuscirei più a muovermi neanche a guidare la macchina io ho lavato le tende adesso vado a stirarle e poi vado a preparare un buonissimo banana bread che ho due banane che sono rimaste un po' così e è l'occasione giusta per poterle riutilizzare io vi abbraccio vi do appuntamento ad un prossimo video che non so quando sarà spero non con una distanza di un mese come l'ultimo ma vabbè lì c'è stato proprio in mezzo l'impegno della festa dell'oratorio poi mi sono ammalata non riuscivo neanche a parlare e quindi niente ci vediamo presto grazie per essere stati in mia compagnia e vi aspetto in un prossimo video un bacione a tutti e un abbraccio grazie ciao